Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le pillole di letteratura giapponese con hip hop. Abbiamo avuto due appuntamenti dedicati alla letteratura contemporanea con la ragazza del convenience store e Kumurakami Ryu, blu quasi trasparente. Questa volta ritorniamo invece alla letteratura classica e ci ritorniamo con un testo che voi avete scelto attraverso il nostro sondaggio su Instagram. La scelta è ricaduta su questo, Seishonagon, Note del guanciale. L'edizione che qui vedete in realtà non è più in commercio. Questo è il libro che ho acquistato nel 1993, anno ormai lontano, quando ero una studentessa di giapponese. Infatti potete vedere ancora i post-it e all'interno ci sono ancora le mie sottolineature d'epoca. È un testo celeberrimo sia in giappone sia all'estero. È un testo che è uno dei più rappresentativi della letteratura classica e della letteratura di epoca Heigan, di cui abbiamo già parlato con il Genji Monogatari di Morazaki Shikibu e con le memorie di una dama di Sarashina, che è una letteratura appunto che vede come protagoniste le donne. Vorrei leggervi, prima di parlarne, l'incipit di questo testo, che ci introduce già all'atmosfera che Seishonagon con sapienza costruisce. L'aurora a primavera si rischiava al cielo sulle cime delle montagne, sempre più luminoso, e nuvole rosa si accavallano snelle e leggere. D'estate, la notte, naturalmente quel chiaro di luna, ma anche quando le tenebre sono profonde. È piacevole allora vedere le lucciole in gran numero rischiarare volando l'oscurità, oppure distinguere solo le luci di alcune di loro. Anche quando piove, la notte ha un suo fascino, il tramonto in autunno. Malinconico, quando i raggi del sole calano obliqui dalla vetta dietro cui tramonta, e i corvi, a gruppi di due, di tre, di quattro, si affrettano disordinatamente al nido. Piacevole anche ammirare gli stormi ordinati dei gabbiani e rimpicciolirsi sempre più all'orizzonte. L'armonia del vento, il ronzare degli insetti, quando il sole è calato, infondono una dolce tristezza. D'inverno, il primo mattino. Bellissimo, inutile dirlo, quando cade la neve. Bello è anche il candore della brina. Oppure, oltre a questo, riattizzare il fuoco rapidamente, quando il freddo è più intenso, e attraversare le sale portando il carbone. È anche piacevole verso mezzogiorno, quando l'ambiente si intiepidisce. Vedere il fuoco del braccere, non più alimentato, ridursi a bianca cenere. Questo è il celebre incipit di questo testo. Seishonagon, come dicevo, una delle principali rappresentanti della letteratura Heian, e le note del guanciale, un testo famoso anche per il genere letterario che inaugura, e che inaugura in modo splendido. Non è un monogatari, cioè un racconto, come nel caso del Genji monogatari. Non è un nicchi, cioè un diario, come nel caso del diario della dama di Sarashina. È uno zuihitsu. Zuihitsu è una parola che mi è sempre piaciuta molto. Letteralmente significa seguire il pennello, e indica testi che appunto non sono racconti, che non hanno un filo narrativo forte, un filo narrativo preciso, legato o meno alla vita dell'autrice protagonista, ma testi che seguono il filo dei pensieri, e quindi sono formati da un susseguirsi di immagini, di ricordi, di riflessioni, e che sono la via più immediata attraverso cui un autore, un'autrice, può esprimere la propria personalità, attraverso appunto l'espressione della propria preferenza, delle proprie idiosincrasie. Nel caso di Seishonagon, che appunto con le note del guanciale è autrice del più antico, fra gli zuihitsu che ci sono pervenuti, il testo è stato scritto attorno all'anno 1000, ci dà un perfetto esempio di questo. Il testo appartiene alla letteratura di epoca Heian, a quella raffinata cultura di corte di cui appunto abbiamo già parlato, ed è ambientato nel mondo della corte. Seishonagon era al servizio della consorte imperiale rivale appunto di Soshi, al cui servizio era invece Murasaki Shikibu. Seishonagon era al servizio di Teishi, figlia di Fujiwara no Michitaka, fratello e rivale di Fujiwara no Michinaga, dal quale sarà poi soppiantato. E la caduta e la morte in realtà di Michitaka saranno la causa comunque della rovina, della perita di potere di prestigio di tutta la sua famiglia, compresa appunto Teishi, legata da un amore intenso al consorte l'imperatore Ichijo. Ma Seishonagon è al servizio di Teishi nel momento dell'apice del suo splendore, quando Teishi animava appunto un salotto di dame vivace, brillante, ammirato da tutti. E Seishonagon era sicuramente l'autrice più importante, più famosa, più prestigiosa all'interno di questo circolo. Questo appunto, le note del guanciale, il makura no Soshi in giapponese, è il capolavoro che ci ha lasciato. E nel makura no Soshi troviamo ovviamente immagini quasi degli sketch, quasi delle istantanee della vita di corte, di una vita che si snodava vivace, fra intrattenimenti, divertimenti, passatempi, la lettura, i giochi di carte, le cerimonie, le feste, fra appunto un'eleganza che era assegnata dai lussuosi abiti che le dame indossavano in più strati, dove di una dama si celebrava la bellezza e la lunghezza della chioma brillante e lussureggiante, dove era importante la grazia, l'abilità nel poetare, l'abilità nel suonare gli strumenti tradizionali, nel danzare, dove tutto appunto era raffinatezza. Dai testi dell'epoca Heian e in particolar modo dal makura no Soshi di Seishonagon ogni riferimento alla vita materiale sembra assente, non sappiamo nulla in realtà dei bisogni materiali di queste dame che sono protagoniste dei testi e in particolare di questo testo. Sembra che non mangino, non bevono, non sappiamo bene chi si occupa delle loro esigenze materiali, tutto sembra avvenire come per magia, ma soprattutto questo testo dà voce alla personalità di Seishonagon, una personalità brillante che in realtà si realizza non nell'estetica del Mononua Ware di cui abbiamo già parlato, questa estetica che allude a una sensibilità profonda venata di malinconia per la fragilità e la caducità della bellezza. Ma la personalità di Seishonagon si esprime in una diversa estetica che è quella dell'Okashi. Okashi allude anch'esso alla bellezza, è un termine che si usa anche nel giapponese moderno ma con una connotazione diversa rispetto a quello che aveva nell'epoca classica. Okashi è ciò che è bello ma di una bellezza che è fatta di vivacità, di arguzia, una bellezza frizzante, ecco è un'estetica frizzante quella di Seishonagon. Il testo è animato dal suo umorismo sottile, dal suo sarcasmo, dalla sua totale assenza di correttezza politica, non c'è nulla di politicamente corretto nel modo in cui Seishonagon in realtà bacchetta i comportamenti poco raffinati o poco eleganti dei suoi contemporanei, dei cortigiani o delle dame della corte e i suoi rivali. Nel testo esprime le sue preferenze, le sue idiosincrasie oltre a ritrarre appunto momenti particolarmente ebriosi della vita di corte. Uno degli aspetti più interessanti del testo sono sicuramente le liste, liste di cose che le piacciono, cose che le danno gioia, cose che le infastidiscono e che appunto contribuiscono a creare un ritratto particolarmente vivace della società e della vita della corte dell'epoca. Il testo ha sempre appunto affascinato sia i contemporanei sia poi le generazioni di giapponesi che si sono susseguiti e oggi come abbiamo detto viene considerato uno dei testi più importanti della letteratura giapponese classica che inaugura appunto un genere letterario che poi troverà altre ovviamente espressioni nei secoli successivi ricordiamo per esempio lo tsuretsure gusa di Kenko Hoshi o ricordiamo i ricordi di un eremo di Kamono Chomei. Ma appunto Seishonagon affascina proprio per il suo spirito arguto, brillante, per le sue grandi capacità di osservatrice. È un testo che ha affascinato in molti, ha affascinato anche in realtà registi e in particolare Greenway che ha dedicato alle note del guanciale uno dei suoi film secondo me più interessanti e più affascinanti e intriganti che è The Pillow Book. Se non l'avete visto vi consiglio di guardarlo per vedere come un classico può continuare a vivere, può vivere oltre il tempo, oltre lo spazio e animare e ispirare nuove creazioni artistiche di grande livello. Spero di avervi incuriosito e vi do appuntamento per la prossima pillola di letteratura con hip hop. Vi ricordo anche di non dimenticarvi di partecipare ai nostri sondaggi per scegliere i prossimi libri di cui parlare. Buona serata a tutti e arrivederci alla prossima puntata. Grazie.